Guardate che taglio indiscriminato in questa pineta, guardate qua, l'hanno sfoltito ovviamente, lo si vede, ma è ora di tutto questo, tagli, eccolo qua, vi faccio vedere io dove sto di casa, e vi renderete tutto, allora io la faccio un girillino, piano piano, se hai visto dove ho letto la mia maritazione, guardate qua, ora io la avvicino di parecchio e ve lo faccio vedere, ecco fatto, vedete, ecco, questo è appartamento del secondo piano, è quello che io sto riprendendo, stop!